Lavori pubblici a loro ciuffenna, cantieri in attività in un punto nevralgico per la vita cittadina. Con i finanziamenti del Gale che avevamo ottenuto e con i finanziamenti del PNRR si stanno avviando due lavori importanti. La riqualificazione del circolo di Regoloresi che avevamo già avviato con la regola della cuscina, ora vedrà tutto il completamento della pavimentazione del piazzale antistante al circolo. Poi sono in via d'assegnazione i lavori della rigenerazione urbana per tutto il progetto di collegamento dal piazzale del diato al comune su fino a via Roma passando per il giardino Belvedere e la Mea 7. Per quanto riguarda la pavimentazione del circolo sono fondi Gale, quindi fondi proprio europei e si conta che non girano di una ventina di giorni, se il tempo permette saranno finiti e quindi il circolo sarà perfettamente fruibile anche attraverso la cucina già realizzata. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana sono fondi del PNRR e lì i tempi sono d'affidamento e quindi in tempo di 3-4 mesi i lavori saranno eseguiti anche lì. Per quello che sono in circolo il finanziamento è circa 70 mila euro e per quello che riguarda la rigenerazione urbana sono oltre 400 mila euro, quindi due importanti finanziamenti ottenuti che ci permettono comunque di fare opere senza creare debito e ricorrere a musei.